Il Tribunale di Larino rischia il collasso a causa della carenza di personale amministrativo. Dei 36 dipendenti previsti in pianta organica ne mancano 14, altri quattro andranno in pensione il prossimo anno. Una situazione drammatica rappresentata dal Presidente del Tribunale Enzo Turco in una lettera indirizzata al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Campobasso. Disagi per i dipendenti ma anche per i servizi come quelli della cancelleria civile a rischio sospensione. Alle gravissime scoperture dell'organico di questo ufficio, ha spiegato Turco, si aggiungono le emergenze quotidiane dovute alle assenze temporanee per malattie, ferie, permessi e altri motivi. L'Assemblea sindacale ha quindi proclamato lo stato di agitazione e non esclude lo sciopero se le istituzioni non interverranno per tamponare questa emorragia di personale. Il Presidente Turco ha sottolineato anche la situazione paradossale che vede tre dipendenti del Tribunale impegnati all'ufficio del giudice di pace di Termoli, considerato ormai di competenza comunale ma di fatto ha osservato Turco tenuto in funzione da personale del Palazzo di Giustizia Frentano. Una mole di lavoro sproporzionata per il personale in servizio, tanto che parte dell'Assemblea sindacale è arrivata a chiedere la chiusura anticipata del Tribunale di Larino perché, stando così le cose, non ci sono le condizioni per assicurarne il funzionamento.